Noi dobbiamo mandare in profondità la campagna di vaccinazione, siamo impegnati ancora in questi giorni per far applicare rigorosamente nei luoghi di lavoro i protocolli sulla sicurezza che abbiamo sottoscritti come parti sociali e governo. Dobbiamo far rispettare in maniera severa i contenuti dei decreti in materia di Green Pass, bisogna chiedere al governo di accelerare sul richiamo della terza dose di vaccinazione e poi rinnoviamo l'invito come stiamo facendo dal mese di agosto come CISL a governo e a Parlamento di valutare la necessità di adottare una norma legislativa che sancisca l'obbligo alla vaccinazione per tutti i cittadini. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per battere il Covid, è il vaccino che ci aiuterà a recuperare la nostra libertà, la nostra normalità. Ecco perché l'obiettivo di tutti deve essere quello di battere, sconfiggere il Covid quanto prima possibile. Quindi il Super Green Pass non è la soluzione? Può essere una misura utile ma secondo noi non sufficiente per formare la ripartenza della curva epidemiologica che tanta preoccupazione sta determinando in questo Paese e non solo. Ecco perché bisogna utilizzare al massimo norme legislative. Facciamo anche noi attraverso le relazioni sindacali una strategia che mandi in profondità la campagna di vaccinazione. Invitiamo tutti i cittadini, lavoratrici e lavoratori che ancora non l'hanno fatto a vaccinarsi. È questo che ha bisogno il Paese.